ciao amici ovunque si sente e si legge che la pasta fa ingrassare e nelle diete viene eliminata i carboidrati sono indicati come i responsabili della ciccia che si accumula nel corpo a questo proposito ho fatto delle ricerche approfondite e indovinate un po ho scoperto che non è proprio così so per esperienza che ogni alimento può essere utile per dimagrire se usato bene mi riferisco anche a pane pizza e sorpresa anche la pasta se vi piace questo tipo di alimentazione mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video amici se vi interessa questo argomento ho preparato apposta per voi una risorsa gratuita da scaricare sul mio sito trovate il link in descrizione qui sotto o nella scheda cliccabile dalla piccola i qui in alto a destra simona questa è una bufala no è una notizia seria ma c'è una condizione la pasta deve essere fatta con un grano di ottima qualità e deve essere integrale in che senso integrale deve contenere il germe cioè la parte grassa del chicco e deve contenere il cruschello e non la crusca per fare dimagrire è diverso ma non basta ci vuole anche la qualità migliore e la qualità giusta si trova in un grano italiano molto speciale si chiama senatore cappelli non è una marca ma un tipo di grano di chicco risale ai primi del novecento quando un genetista italiano strampelli crea degli incroci e forma un nuovo ibrido naturale lo chiama senatore cappelli in onore del senatore che ha riformato l'agricoltura italiana caratteristiche nutrizionali il grano senatore cappelli è un grano duro molto più ricco di fibre zinco e potassio a meno sodio calorie e grassi senza colesterolo non agm a meno del 10 per cento di glutine e quasi il 14 per cento in più di proteine e in più è saziante genera un basso indice glicemico ritarda la fame libera velocemente l'intestino e allontana il pericolo di intolleranze al glutine il corpo necessita ogni giorno del 40 per cento di carboidrati per avere energia e con questa pasta possiamo dimagrire e tornare al peso forma ma come dobbiamo fare per dimagrire con la pasta l'importante è mangiare questa pasta ma solo una volta al giorno meglio se a pranzo e condita con abbondanti verdure saporite mentre ad ogni pasto introdurre verdure crude con poche calorie e tante fibre se si mangiano proteine meglio che siano magre o vegetariane e durante il giorno almeno una volta un succo fresco di verdura e frutta se volete mangiare pasta in modo equilibrato e sano potete seguire tutte le ricette brucia grassi attiva metabolismo del mio ebook trovate il link in descrizione qui sotto è possibile dimagrire mangiando pasta mangia sano e vivi bene grazie a tutti